Antonio Sabino, gruppo consigliare del PD Quartese, ieri avete abbandonato l'aula durante i lavori del Consiglio, perché? Perché è stato fatto un atto di arroganza da parte di questa amministrazione che si rifiuta di parlare all'interno del Consiglio Comunale di un argomento noi riteniamo di fondamentale importanza, qual è quello della Quarto Multiservizi. Noi veniamo da una serie di dichiarazioni, da una serie di atti amministrativi che sembrerebbero presupporre la dismissione della municipalizzata. Si vede fortemente i contrari perché riteniamo che era stata anticipatamente fatta una ipotesi di transazione per cercare di recuperare i debiti della Quarto Multiservizi e si trovava in uno stato di avanzamento questa eventuale transazione. L'amministrazione comunale ritiene invece di dover fare dei passi ulteriori, cioè quello di provvedere direttamente a una dismissione senza nemmeno stabilire quale è l'alternativa che vuole porre a sostegno per la raccolta dei rifiuti su Quarto. Oltretutto provvede nell'apprevazione del bilancio di previsione a stanziare dei fondi necessari per la raccolta differenziata, non presenta un piano industriale, aumenta l'accisa, aumentano le tariffe cimiteriali, aumenta del 30% la Tarsu, viene ad imporre una dismissione senza fare un'accurata verifica di quali sono i conti reali della Quarto Multiservizi. Grazie a tutti.